Ha parlato il direttore sportivo della Lazio del mercato e ovviamente bisogna leggere e commentare queste dichiarazioni del nostro direttore sportivo al Corriere allo sport. Ciao a tutti da Vittorio, Calcio Mercato chiude fra poco più di 24 ore, primo febbraio alle 20 e oggi su Corriere allo sport c'è un'intervista, una piccola intervista al direttore sportivo della Lazio, Fabiani. Fabiani che dice un paio di cose che obiettivamente vanno commentate e sicuramente non faranno piacere al tifoso bianco celeste. Fabiani ha detto lo dico da mesi, non da ora il mercato non dorme mai, volontiamo tutto ma l'organico costruito in estate è completo, se capita l'occasione giusta e funzionale non ci tireremo indietro ma penso sia complicato nell'ultime 48 ore. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni. Parliamo di giovani che ci sono stati segnalati o che studiamo ma o non partono o non li vendono, lo dico da mesi, non da ora. Parlando della possibile operazione dice certo deve essere un'operazione di prospettiva in stile mandas, rivolta al futuro classe 2001, 2002, 2003. Ai trentenni non pensiamo, immagino riferito a Rafa Silva. Ora non alteriamo gli equilibri del gruppo, ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni. Allora queste sono le dichiarazioni di Fabiani che fanno tanto riflette. Come mi ha scritto ieri uno su Facebook, allora la colpa non era Iglitare, non era il direttore sportivo il male della Lazio. Beh, sicuramente Iglitare ha avuto le sue colpe, le sue responsabilità, penso agli acquisti di Alfaro eccetera eccetera. Avete ben preciso l'identikit, i tanti errori fatti da datare, ma ovviamente le indicazioni arrivano dall'alto e dall'alto c'è il presidente Claudio Lutito. E Lutito che ha detto a Fabiani non spendiamo, non è Fabiani che si è svegliato ha detto no, abbiamo i soldi ma non li usiamo. Io ripeto, quest'inverno la Lazio ha la possibilità di fare un acquisto importante. Non abbiamo vincoli con l'indice di liquidità, abbiamo i soldi della Champions che puoi anticipare e quindi potevi spettare. Adesso le parole, la frase ma l'organico costruito in estate è completo? È una frase che getta secondo me il tifoso bianco celeste nello sconforto. È completo, ma non siamo il Real Madrid, non siamo il Manchester City. Nel calcio puoi sempre migliorare una rosa. La migliora l'Inter che è la squadra più forte della Serie A, non lo può migliorare la Lazio. L'Inter non ha la rosa completa, la Lazio sì. La classifica dice una cosa completamente differente. Non solo la classifica, anche in due confronti diretti, sia in campionato che in Supercoppa non c'è stata storia. Però l'Inter si rafforza, la Lazio ha la rosa completa. No, la Lazio non ha la rosa completa e le lacune sembrano abbastanza evidenti. Lo stiamo dicendo da tempo, no? La Lazio non segna. Può essere che abbiamo la rosa completa. No, anzi, secondo me, andando a vedere, se vuoi avere la rosa più forte della Serie A, lottare per lo scudetto, dovevi prendere un esterno d'attacco, un centrocampista e un tersino. Questo è avere una rosa completa. Quella della Lazio è una buona rosa, assolutamente buona, ma assolutamente non completa, non perfetta. Il fatto di non andare a prendere un trentenne, chiaro riferimento a Rafa Silva, è un'altra cosa su cui discutere. Sicuramente prendere un trentenne adesso non è un progetto a lunga scadenza, è un obiettivo per il mediato, che però ci può stare, nel senso che non è che devi avere una rosa di 22 anni, perché non giochi le redivise dove l'Ajax può vincere il campionato con tutti i 21 anni. In Serie A nessuna squadra ha mai vinto lo scudetto con giocatori solo under 22. Ci vuole sempre esperienza, ci vuole sempre un giocatore che ha vissuto certe partite, che ha l'esperienza, ha giocato tanti match in Serie A. Ovviamente non basta solo l'esperienza, ci vuole anche la qualità per evitare alti e bassi, perché per andare in Champions devi avere continuità di risultati. Non puoi battere l'Inter e poi perdere contro l'Empoli. Devi essere una squadra che fa un percorso netto. Per cui capisco non andare a prendere un 31enne, però in generale non è che puoi costruire una squadra di under 22. L'operazione in prospettiva è una cosa che sicuramente mi piace, lo sapete, se mi seguite sapete che io apprezzo una squadra giovane. È anche vero che prendere un giovane a gennaio è un'operazione molto complicata. complicata. Complicata perché per vari motivi. Il primo è che se una squadra è un giovane interessante e difficile te lo dà a gennaio, al massimo te lo dà in prestito perché vedi Luca Romero per esempio al Milan non ha giocato, è un investimento che hai fatto, dici vabbè io te lo do in prestito, tu lo fai giocare e poi a lui lo riprendo. Ovviamente questa è un'operazione che alla Lazio non interessa. La Lazio non vuole un giovane per farlo crescere per un'altra squadra, vuole prendere un giovane per crescerlo all'interno della rosa. Però anche qui parliamo di un'operazione troppo al futuro, nel senso che la Lazio deve fare un mercato di gennaio, ai tempi miei si chiamava mercato di riparazione, perché a gennaio dovevi prendere quei giocatori per riparare una rosa che non funziona. È evidente che la Lazio ha una rosa che non funziona perché segniamo poco, serve un esterno d'attacco, Pedro sta facendo male, Felipe Anderson così così eccetera eccetera. Invece se tu va a prendere un giocatore classe 2003, probabilmente prendi un giocatore che quest'anno o almeno in questo campionato non giocherà un minuto e che magari l'anno prossimo inizierà a giocare. E non è riparare la rosa di adesso, ma è prendere un giocatore per l'anno prossimo, che non mi sembra l'obiettivo attuale della Lazio. La Lazio deve prendere un giocatore per migliorare la rosa attuale. Quindi mi piace tanto l'idea del 2001, 2002, 2003, ma questo è un discorso che andava fatto a quest'estate o la prossima estate. Adesso devi prendere un giocatore che tu puoi comprare oggi e domani può scendere in campo. Un giocatore che tu compri oggi e domenica contro l'Atalanta può giocare, perché poi è quello che stringi stringi devi ottenere un giocatore che può dare un'alternativa a Maurizio Sarri. Zaccagni e forse per la partita in Bergamo io prendo un esterno d'attacco che domenica può giocare titolare a Bergamo senza che io giochi in 10. E questo è quello che devi fare. Purtroppo queste dichiarazioni di Fabiani sono dichiarazioni che preoccupano, che fanno paura, perché la Lazio quest'anno è una situazione diversa. Avevamo finalmente i soldi, non puoi dire l'organico è completo per vari motivi, ma soprattutto perché la classifica ti dice assolutamente di no. E quindi secondo me questo era l'inverno in cui la Lazio doveva fare qualcosa. Sì, numericamente siamo a posto, perché hai alternative, ma se le alternative non sono valide, tu ne puoi avere anche mille, ma sono alternative inutili. Pensiamo ai tersini, tanto per fare un esempio. La Lazio ha quattro tersini, sì, ma Isai negli ultimi due mesi ha giocato cinque minuti. Qualcosa mi dice che Isai non è più considerato all'altezza degli altri tersini. Andiamo a vedere davanti. Davanti stanno ruotando tutti per colpa di infortuni e delle squalifiche, ma bisogna dire che nell'ultimo mese, a parte che Pedro non segna da Lazio Cagliari e quindi parliamo di tanto tempo fa, ma nell'ultimo mese Pedro è stato disastroso, si è fatto espellere nel derby, ha regalato rigore all'Inter e evidentemente non è un giocatore che ti sta facendo la differenza. Zaccagni è fuori per infortunio. Una squadra, un direttore sportivo, con una visione ampia, dice Zaccagni si è fatto male, non so quando riprenderà perché sta saltando un paio di partite, io se ho la chance mi vado a prendere un esterno d'attacco per dare a Sarri un'altra soluzione adesso che Zaccagni è out. E invece siamo qui a dire che la Lazio non farà nessun colpo in questa sessione invernale. Poi chiudiamo con la rosa completa un'altra volta perché la rosa completa non vuol dire niente, tu competi contro altre squadre. Se giochi un campionato mediocre basta avere una squadra decente per vincerlo. Se giochi un campionato in cui le squadre sono, ci sono sei squadre più forti di te e tu arrivi settima, non ci sono alternative. Se tu giochi un campionato come quello della Serie A, dove la Juve si è rafforzata, Milan si è rafforzata, Napoli si è rafforzato, l'Inter si è rafforzato, la Roma si è rafforzata, l'Iorentina si è rafforzata e tu sei l'unica che non si è rafforzata, inevitabilmente se al primo gennaio tu eri la quinta squadra della Serie A, adesso sei l'ottava perché tutte le altre sono migliorate e tu no. E quindi la rosa non è più completa perché sì, numericamente è completa, ma gli altri sono diventati più forti e tu no. E quindi ti ritrovi, come capita quasi sempre la Lazio, che dal primo febbraio sei più debole delle altre squadre quando al primo settembre invece eri più forte, almeno di alcune. Ed è questa la cosa che getta lo sconforto al tifoso laziale, perché l'impressione è che il presidente Rotito non gliene freghi molto, gli piace, gli va chiare, stare là, fra il quinto e il settimo posto, ogni anno lottiamo per la Champions, se ci dice bene ci andiamo, perché quello che ci dice la storia della gestione Rotito è che in 18 anni di presidenza la Lazio è andata in Champions League tre volte, molte volte siamo fuori e diciamo, eh siamo stati sfortunati, è c'è stato l'infortunio, è l'errore arbitrale. Però se tu invece facessi un mercato alvernale degno di nota, probabilmente saresti andato in Champions 10 volte su 18, 7 volte su 18, invece no, siamo fermi perché le altre si rafforzano, noi a gennaio andiamo a vacanza. Ed è questo il problema della Lazio, targata lo dito. Ovviamente questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivi un commento qua sotto e noi ci rivediamo dopo con un altro video. Grazie.